Il sogno polisportiva sta per realizzarsi, l'idea di mettere calcio, basket e pallavolo sotto un'unica bandiera è sempre più vicina. Le indiscrezioni degli scorsi mesi trovano conferma, Gianandrea De Cesare va tutto gas verso la tripalda volley, un ritorno il suo che aveva fatto già parte dei quadri dirigenziali quando in massima serie fu vinta la Coppa Italia. I rapporti tra la dirigenza sabatina e l'ingegnere sono ottimi, l'attuale patron della scandone dell'Avellino Calcio, dopo essere stato vicino come sponsor, è pronto a prendersi lo scettro della società bianco-verde e chiudere il cerchio realizzando il suo desiderio. La tripalda volley che quest'anno disputerà il campionato di B1 e che giocherà nella palestra del partenio Lombardi, tra dicembre e febbraio potrebbe quindi vedere il passaggio di testimone. Con il cambio ai vertici potrebbe esserci anche il cambio di denominazione con il ritorno di Avellino. Adesso non ci resta che aspettare l'evolversi della situazione e capire quali saranno le prossime mosse. La trattativa è in corso e la fumata bianca potrebbe arrivare in ogni momento.